Crescono i disagi soprattutto per i residenti per la chiusura al traffico di via Enzo Ferrari a Tortoreto, la strada che collega il Lido con il centro storico. I lavori in questione sono quelli avviati su Fosso Bocciodro, messi in campo dall'amministrazione comunale per risolvere il problema del rischio idraulico in quell'area. Sono uno dei tanti residenti in questo periodo sfortunati, ahimè, perché vivo da due mesi, insomma, questa interruzione della principale arteria di collegamento da lì di Tortoreto Lido verso il Paese Alto che mi consente di rientrare nella mia casa e sono appunto due mesi dalla fine di marzo, oggi si trova il 27 maggio, che c'è questa interruzione, quindi non riusciamo a tornare nei nostri casi con questo percorso più breve e diciamo un percorso consono, ma abbiamo delle alternative, purtroppo queste alternative non sono come questa strada qui, sono dissestate, un'alternativa è a senso unico e l'unica alternativa praticabile che ha un manto stradale decoroso e buono è la via panoramica, però per percorrere via panoramica siamo costretti ad allungare il giro di 6-7 chilometri. I lavori da cronoprogramma dovrebbero terminare entro il 2 giugno, ma i residenti segnalano che sono circa due settimane che i lavori non vanno avanti. Avranno riscontrato qualche problematica tecnica, forse la ditta esecutrice dei lavori, e da due settimane non ci sono né mezzi né operai al lavoro e questo mi fa veramente preoccupare anche in virtù dell'inizio della stagione estiva che ha le porte. Quindi chiediamo una risposta alla stazione appaltante, anche a livello informativo, per informare noi residenti, insomma anche una risposta alle varie PEC che abbiamo inviato, alle petizioni che abbiamo inviato, per rassicurarci su una possibile soluzione che possono adottare. Se possono studiare una soluzione di creare un senso unico alternato, se possono interrompere i lavori durante la stagione estiva, anche perché questo cosa sta comportando? Sta comportando l'isolamento proprio del quartiere, delle prime abitazioni qui, della villa rustica, dal sito archeologico, fino insomma alla rotatoria di Sette Colli. E questo fa, diciamo, anche preoccupare a livello di sicurezza notturna, perché non essendoci passaggio di automobili, riceviamo, io l'altra notte appunto ho avuto questo episodio spiacevole, una tentata intrusione, insomma, anche a casa mia. La colpa non è ovviamente dei problemi tecnici, però chiediamo noi residenti una gestione più attenta, anche da parte della stazione appaltante.